Video di marra perché Simone non di flame, non so cosa stavano lì a fare Come provocazione si potrebbero anche mettere in clave Fanno una reaction una dopo l'altra, sempre trullando in una ma... Voglio raccontare un paio di cose che dovresti sapere, visto che sei grandi c'è Simo, non mi racconta un cazzo, c'ho da fare, ciao Sucone, scusami, grande, perdonami Buona giornata No, ti prego, dimmi, dimmi che m'abbia Dico, no vabbè, stavolta sono tutti brutti Guarda Belgio, benissimo, ma io dico Ma che cazzo, guarda Smodiuskine, Ermi È il peggio, è il peggio È il peggio Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivà Hello Eccomi tornato Entrata sorpresa, ma era perché stavo cercando il microfono Ma è un'ottima scusa per mostrarvi senza me in mezzo tutto il nuovo studio No Andando indietro Hello Eccomi tornato Entrata sorpresa, ma era perché stavo cercando il microfono Ma è un'ottima scusa per... Hello Eccomi tornato Entrata... Vabbè Hello Closha E benvenuti in questa nuova trasmissione No, lo volevo mettere l'ultima volta Come state? Top studio di Adrian Ha migliorato molto la qualità Ci piace, ci piace Molto valido Top i capelli pure, devo dire Top cambio di look Ci sta, ci sta Grazie mille e ventidue Come state ragazzi? Inizio del weekend Si riparte Si inizia qua Per la penultima settimana prima della chiusura dei battenti Nuovo ciclo Cioè? Nuovo ciclo settimanale Weekend The weekend Weekend ciclo Bravo The weekend ciclo Grazie Bessi Grazie mille Golden Allora Marco come va? Come? Partate Con la CIA Grazie Warco Con la CIA Con il Federal Bureau anche Non è l'unico tra l'altro Che lo confondono con Assange Microfono No No Ma è acceso È acceso Prova Ma è acceso Grazie Giorgio Romero addirittura Secondo anno Top Allora a proposito di cose particolari Tu Marco tutto a posto? Si? Ho solo perso Non si direbbe Oh grande Zeb C'è quello rosso volendo eh Si allora Zeb 89 Zeb 89 Diciamo che è finito in una vicenda particolare Grazie Andrea Non ho capito ma devo chiudere in modo definitivo Ragazzi Di definitivo Ci sono solo la morte e le tasse E la team Allora No 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 Veramente Veramente Non ce la posso fare Gianlu Non ce la posso fare Non ce la posso fare Stamattina apro Il programma di fatturazione elettronica È tipo la morning routine Pensate che bello Mi metto lì Fatture, treni, piselli Cazzi mazzi Vedo team Dico vabbè Sarà l'ultima fattura a pagare Controllo l'indirizzo Indirizzo caverna Era l'indirizzo della caverna Stanno ancora a mandare fatture dalla caverna Ma da quante Siete sicuri che Sono arrivate mese dopo mese O è solo la prima che arriva Ma che prima No no Abbiamo saldato una marea Ancora altri 45 euro Io non ve li do Abbiamo cessato quel contratto anni fa Dio mio Allora il problema Abbiamo capito che è stato questo Quando è stata mandata la PEC Per cessare la linea di via Luigi Ferretti Dove arrivavano ancora Caverna No dico per loro Sì Abbiamo tanto la via di Tore spaccata Ma sì sti cazzo Ormai è scoppiata quella casa Sì Avevo chiesto la cessazione Perché come vi avevo detto Continuavano ad arrivare delle fatture Nonostante noi ci fossimo trasferiti qua L'errore qual è stato Che il numero di telefono associato alla linea È rimasto il medesimo Quindi io andando a cercare Qual era il numero di via Luigi Ferretti Ho scritto Cessate la linea di questo numero In via quella che ho detto E il risultato è stato Che ci hanno cessato questa linea Non si sa perché Quindi i 20 euro non c'entrano niente E ora dobbiamo andare a bruciare qualche negozio Vabbè ragazzi ma siamo alla follia Cioè uno specifica pure l'indirizzo E levano quella attiva Non quella che non agisce da due anni Meno male che noi abbiamo Un giusto funzionamento di smart working Perché sennò qua non c'era internet Siamo alla follia Era barzelletta Era barzelletta Meno male che comunque ce la siamo cavata abbastanza bene E la cosa divertente è che va cessata di nuovo Pure quella quindi È incredibile Dovremmo pagare questi altri soldi Non ce la faccio più Veramente ce la faccio più Comunque E poi No niente niente Cioè Stiamo a continuare a pagare una linea In una casa dove probabilmente I nuovi inquilini già ne hanno fatta un'altra Sì c'hanno un'altra linea Perché c'è Nicole Però non è che stanno a controllare Cioè non è che mandano una notifica Guardate è stata a mettere una linea sopra un'altra linea Così Le cose vanno avanti E se ne deve accorgere giustamente La persona stessa No Però Via Luigi Ferretti Però dato che il numero è rimasto lo stesso Nel dubbio così Una delle due Capito Ci hanno cessato questa Una cosa allucinante Quando io avevo specificato la via della caverna nella mail Non verrà pagato nulla Cioè basterà guardare quanta linea è stata mangiata Cioè zero Perché se nessuno Si è beato a te Dici Eh sì E chi cazzo Se non c'è un motore Ma non c'è una linea wifi Ma non gliene frega nulla Perché finché non la cessi Quelli ti continuano a mandare Le bollette Se no mandano a recupero crediti Hai capito? Eh mandassero a recupero crediti Ci stanno le prove Comunque Uno ha fatto le varie Ma loro dicono a me Che mi frega che non la usi Eh però la disdetta risulta no? Perché uno fa la disdetta Se ne va da un appartamento E te continui a mandare sta roba Ecco potremmo contestare il fatto che Per quello dico Se io poi non te le pago Che cazzo vuoi? Cioè ci starà il modo di contestare queste cose no? Quello potremmo contestarlo Perché c'è l'indirizzo giusto Quindi potremmo dire Voi avete la PEC con questo indirizzo E ci avete mandato bollette di questo indirizzo Eh loro Cioè è stata quella PEC A far avviare il processo Di cessazione Sì E quella PEC ha un indirizzo Che non è la linea che avete cessato Cessi Quindi Cessi i nostri I nostri Eppure che Aleazzi ha fatto Deve stare contro la team Eh voi vedi Comunque Vicenda che interesserà secondo me Soprattutto a Marco Vicenda seria Allora La fuga di Artem Us Ah Artem Us Zeb 89 Puoi zommare un po' Cos'è successo? Ovviamente questo imprenditore russo Quanto pare anche amico di Putin Eccetera È passato in Italia Così per una capatina a Milano Eh L'America Contatta l'Italia Ragazzi guardate che questo va affermato Ha messo gli arresti domiciliari Perché ha violato Vari embarchi Piselli vari A un certo punto La faccio breve Questo è scappato Quindi abbiamo fatto una figura di merda A livello internazionale Ma leggiamo meglio nello specifico Già le anomalie partono Già le anomalie Giustamente da un'osservazione di Marco Partono dalla foto Di per sé Perché Sembra un identikit Fatto al computer Grafica Tipo da mid-journey No vabbè che siamo un po' influenzati Ma sembra una Dell'intelligenza artificiale E Lui sembra appunto Aggiunto Sullo sfondo De una Bibiena Sì De un paesino Che può essere Bibiena E Bibiena Il riflesso degli occhiali Se qualcuno poi da casa Può fare le cose Giuggi Sembra proprio Un'altra cosa Una casa Ma poi Summa un po' Marco Per curiosità Ma infatti Summa tutto Fatta con intelligenza artificiale Grazie fiore di scroto Ma poi c'è una luce Sulle sopracciglia Che non capisco Ah c'è Chitano nel riflesso Vedi Sì c'è una luce strana Grazie Rebus C'è una luce dalle sopracciglia Faccia caso Che non È strana È vero Fateci un po' caso Cioè mo Che è il sole Che lo hai detto Magari pure sui capelli Però Ma la mano pure Sembra C'è qualcosa che non torna Sembra come se avessero chiesto Attenzione Che paura Ingrandisci Simo Attenzione E si vivono No E che è Ma che è una chiesa Che cazzo Facciamo tipo con il Rorschach Non è un monte Dove state Che cosa vedete voi È strano Io vedo la testa D'un gorillone Se ci fai caso La testa D'un gorillone Un gorillone bianco Con cento occhi Si casano gli occhi Un gorillone Però è strano perché Ti immagina un gorillone mostro Che esce fuori da Kingdom È una macchina fotografica Aspettate comunque Vi spiego un attimo Che avevo notato Perché non si è capito Pure quell'altro Fammi vedere un po' Il fatto è che Su una Su una Cioè Su una foto Non ci dovrebbe essere Una cosa in differenza Tra un occhio e l'altro Dei riflessi Vedi uno quanto è più scuro Anzi sono due riflessi Completamente diversi Magari un'ombra Eh sì Un'ombra che batte più Da quel lato Un flash che è entrato Più su un occhiale Rispetto che l'art È un interno proprio Sta proprio appoggiato Su una finestra Magari lui sta Capito Tipo finestra Balcone Foto da dentro Quindi lui riflette il dentro E si vede L'esterno Lo so Mi sembra inanimato Come se fosse Una creatura Che non esiste da avere Può essere tipo un tavolo Un tavolo De un ristorante Su un terrazzo Che ne so Mi sembra Questa cosa Un tavolo Sì è strano Che i riflessi Sono diversi E hanno una luminosità Diversa tra un occhio E un altro Grazie Giacomo L'ha visto Comunque vabbè 43 mesi Sembrava come Se fosse un russo Che scappa A mid giorni Allora aspetta Mi sa che Questa non è la prima Però delle due Volevo introdurre un attimo La storia velocemente Eccolo qua Allora l'imprenditore Fuggito da Milano E' tornato in Russia Il ministro ordina Ispezione Allora Ora scende in campo Il governo No questo è dopo Però vabbè C'è comunque L'introduzione Arrestato Il 17 ottobre A Malpensa A Malpensa Mentre partiva Per la Turchia Malpensandoti L'America Lo accusa di Violazione d'embargo Nei confronti Del Venezuela Per contrabbando Di petrolio Verso Cina E Russia Frode bancaria Riciclaggio E soprattutto Esportazione illegale Di tecnologie militari Dagli Stati Uniti Alla Russia Musuna ragazzi Qua davvero Te fanno la chiave di cioccolato Arinza Arinza Il 21 marzo Molti dicono che sia tutta colpa Della moglie La deriva La deriva è sempre colpa Delle donne Il 21 marzo L'ok dei giudici milanesi All'estradizione Il giorno dopo La fuga L'opposizione ha chiesto Conto al governo Dell'evasione Ne va della credibilità Internazionale Dell'Italia Ha spiegato il deputato Dem Peppe Provenzano Ma infatti Grazie Lorenzo Sta cosa Però fa riflettere Tu dici Allora America Contatta l'Italia Regà Questo è uno pericoloso Mi raccomando Tenetelo lì Ok ci pensiamo noi ragazzi Scappato Con tanto del braccialetto Del cavigliera Guarda che una fortuna Cioè noi E' proprio quello è il bello Ormai non c'è più una credibilità Quindi potremmo stare tranquilli Questo è vero Se non hai una faccia Non puoi perderla Hai capito Non c'è più quella responsabilità Ma che cazzo Prima sono passato davanti A una scuola Materna Abbandonata E c'era Una bandiera Italiana Palesemente Abbandonata lì Da 15 anni Tutta impolverata Puttano Io me la so immaginata Magari tornando indietro Nel tempo Quando era pulita E sventolante Invece ora era tutta una cosa Rattrappita Una cartocciata Mi è venuta Era la metafora Del discorso Che hai fatto L'altro giorno Sul nazionalismo Ah sì esatto Esatto Ormai stiamo a quel punto lì Allora L'intelligence Parrebbe però Non essere entrata Nella vicenda C'è stata una decisione Dell'autorità giudiziaria Sulla quale Nordio si propone Di far luce Per verificare La legittimità Dell'operato Dei magistrati Pena troppo blanda Per un soggetto Così importante Si vedrà La corte d'appella Ha già redatto Una relazione In cui spiega Che l'arresto Era controllato Due volte al giorno Da carabinieri E sui domiciliari Invece del carcere La corte Sottolinea Che non poteva agire D'ufficio Aggravando la misura Mi ricordo una celebre frase Palle uomo In questo caso Si procederà Direttamente D'ufficio Per le cose gravissime Che hai detto D'ufficio Praticamente D'ufficio Ma è arrivata Però ok Potevano invece Farlo la procura Generale Il ministero Di pari passo Continuano anche Le indagini sulla fuga Questa è una cosa interessante Ormai appare certo Col petrolio Che alle 14.07 Del 22 marzo Us è uscito di casa Riuscendo Us Us Radà Che era sta cosa Qualcosa Oblivion Skyrim No Oblivion Oblivion No 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 Quello è Skyrim Fus Rodà e Skyrim Le hanno messe in Skyrim Fus Rodà Perché è l'urlo Del sangue del drago Non parlavano Parlavano ma non così Quella è la lingua di drago È l'urlo del drago Il sangue di drago Sì sì Curioso Però si È giocato a Skyrim No mai giocato a Skyrim In vita mia Mi sogno è recuperato Ho giocato Oblivion Con Leonardo Marra Più volte Allora È uscito di casa Riuscendo a ritardare L'allarme del braccialetto Elettronico Per poi salire Su diverse auto Puntando al confine Sloveno Da lì sarebbe arrivato In Serbia E poi in aereo In Russia Il quarantenne Figlio del governatore Di una regione Della Siberia Amico personale Dello zar Vladimir Putin A inizio di aprile Ha fatto sapere Di essere stato costretto A fuggire Non fidandosi Della giustizia italiana Hai perfettamente ragione Guarda Su questo L'ipotesi Poi Cioè Vabbè Fa ride Che dice Sono stato costretto A fuggire Perché non me fido E effettivamente Riesce a fuggire Quindi Giusto Non sono affidabile Magari avrà pensato Preferirei essere Al di sotto Della giustizia russa Probabilmente Evidentemente Sei amico di Putin Eh capito Ma pure io l'avrei detto Vado a farmi giudicare Dove ho il mio amico Che è lo zar Il re Il problema è che Ovviamente l'America Chiede conto alla Russia Per i crimini commessi Eh certo E la Russia Chiaramente negherà L'estradizione Hai capito L'ipotesi Quanto mai probabile È che la regia Dietro il suo ritorno in patria Sia di Zeb 89 Vedi Ah di servizi segreti russi Fichissimo Cioè sono arrivati Fino a Bibiena Questi Lo vogliono trarre in salvo Quindi Vedi questo qua Opposizione ha chiesto Conto al governo Intelligence Pogrebbe non essere entrata In una vicenda Vabbè più o meno La stessa articola Ricostruzione Quarantenne Sarebbe riuscita A lasciare l'Italia In poche ore in macchina Cambiando più auto E documenti falsi Attraverso il confine triestino Sì è la stessa cosa Essenzialmente Di certo La fuga del Russia Ha creato un problema Nel rapporto con gli Stati Uniti Il giorno prima dell'evasione La corte d'appello Aveva dato il via libera All'estradizione di US Che era stato bloccato Il 17 ottobre Su un mandato d'arresto Internazionale Dell'autorità giudiziaria Di New York Di Nuova York Eccolo che vi dicevo Vabbè contrabbano Blah blah Gli Stati Uniti Sarebbero stati interessati Ad ottenere il rilascio Di Paul Welland Uomo d'affari Condannato a Mosca A sedici anni Era tipo uno scambio Il 21 ottobre Il portavoce di Putin Dimitri Peskov Aveva assicurato Che le missioni Diplomatiche russe Faranno del loro meglio Per proteggere Gli interessi di US Qualche mese dopo L'affarista russo È tornato a casa Quindi mo c'è gente Tipo questo Paul Sotto la custodia Della Russia Questo qui evidentemente Si è rifugiato Cioè rifugiato È prigioniero della Russia Evidentemente gli americani Vuolvano fare uno scambio E perché E quindi E usano Usano persone Ah vedi c'è scritto Scambio di prigionieri Si fanno da È grottesca sta cosa Eh ma tu pensa pure Agli scatti Se è il riscatto È grottesco Eh ma il riscatto Magari te lo fa Il rapinatore Ma qua No 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 Gli scatti internazionali Sono degli stati interi Che si comportano Come dei rapinatori Che hanno degli ostaggi No Ma spesso i riscatti Prevedono anche Proprio la nazione Che deve Consentire L'estradizione Ma a me fa ridere Il La totale Cioè il Come posso dire Il totale Controsenso Della grande Burocrazia Di questi stati Che si comportano Da Grandi Potenze Che fanno Queste cose Incravattate Ma stanno Allo stesso Livello Di magari Nell'antica Roma Due clan Di barbari Che si contendevano Due prigionieri Potresti arrivare A dire Allo stesso livello Del brasiliano Lui Cioè è una barbarie Con la cravatta Questo Volevo Le potere A Berlino Lo è Perché noi abbiamo No ma noi abbiamo Ovviamente la percezione Distorta Ma spesso Accade Esattamente allo stesso modo Su livelli diversi Io immagino Sto pool Guarda stai più sci E ora vediamo Che succede Come si gestiscono Sto Zeb 89 No gli italiani hanno fatto Un casino Mi dispiace Ma tu immagina Tipo anche Ripeto La contrattazione Per un riscatto Vabbè dai Fammo 3 milioni Invece che 4 Dai ok Allora Lo ridiamo Non lo ridiamo Succede da sempre Infatti Lo facevano appunto I barbari Quando Lo fanno solo Fanno la stessa cosa Però Incavattati Con gli interessi Gli interessi internazionali Sono in pericolo Intanto c'è un cristiano Che sta a morirla Però vabbè Magari viene trattato bene Sicuramente Ma arriveranno quelli Che dicono Ma lo uomo A morire Ma lì sicuramente Lo tengono in una Io Non lo tengo I pro Putin Chi lo dice Ma pure i pro Putin Lo sanno che non sta bene I pro Putin Al proposito di Fa una romana Il faina l'aveva detto Il mondo hanno rovinato Quelli in giacca e cravatta E certo E mica quelli che i tatuaggi Bravo A proposito di tatuaggi Il brasiliano litiga Con la polizia E viene arrestato E portato in caserma Trova mille modi Davide Ogni volta A proposito di Sono belle ste connessioni Sono divertenti Sono giochetti divertenti Il brasiliano litiga Per motivi futili Simone mamma mia Che discorsi Cioè Parliamone Io che cosa devo dire Qua Penso si riferisca al film Mamma mia Ah bellissimo Musical Ma è vero Che discorsi Dopo il film Certo Che grandi discorsi Più che altro avrei detto Ciuè E viene portato da loro In caserma Per degli accertamenti Probabilmente dovuti Ai suoi precedenti penali Ma per fortuna Per alcuni E purtroppo per altri Viene rilasciato subito dopo Chiaramente Anche se non sapendo I motivi per cui è successo Tutto Stambardan Non siamo sicuri al 100% Che la situazione Sia realmente conclusa Il filmato che vedrete adesso Me l'ha domandato in direct E vi lo specifico Non si vede la parte dell'arresto Ma me l'ha scritto Chi me l'ha mandato Quindi prendete quelle pinze Queste ultime informazioni Vi lascio filmati Noi ci vediamo un prossimo video In linea Un studio Un video Un video completamente inutile Grazie mille Social Boom Come al solito Se hanno fermato Il brasiliano Questo in realtà È un video molto utile Grazie Welcome 50 euro Indovina questa regione d'Italia La Toscana No senta Ma sono Sembrano tante regioni insieme O è una È una Che regione è? Io l'ho già visto Vabbè tu sì Io Che cazzo ne so Ma che cazzo ne so Ehm Insomma manco Non leggete la chat Sicuramente l'avranno Capito No non è il Lazio No no Non c'ha quella cosa in basso Ma forse è pure ruotata E se è ruotata Sono cazzi ragazzi Con sta forma a spicchio Che è a Liguria Ma non mi ricordo La mappa spicchiata Non riesco Scusa Non guardare la chat È il Trentino Alto Adige È una del nord Eh non lo so Vabbè fai play Prima dove vivevi? A Roma E questa cos'è? È girato È girato Lo sapevo È il Lazio È un bravo che io sa allora L'avevo detto Poi l'ho letto È girato Era Lazio Capovolto Guarda guarda Ha Sono andato bene Sono andato bene Sono andato Sono andato in Italia Non è là No La Puglia Dove sei il tuo originario? Io so del Lazio È questo che è? Ma vabbè Del Lazio Del Lazio Bertrick Del Lazio La Puglia Del Lazio Io so del Lazio È giusto Vabbè questo Grazie Mi piace Che ignoranza ragazzi Questo è Trettino Alto Agile Adige 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 Pure l'ho pensato Trettino Alto Adige Te l'ho detto Lo sapevo Questa è la Campania Questo è Lazio Ragazzi Nate in FG Non capisce un cazzo Voi siete di Pari Quindi della Puglia Sì E questa è la Puglia No Ecco perché non l'ho detto Lazio Adige 50 Andate a farvi una vacanza Sì È di Puglia Una piccola incursione A proposito di Rubino Volevo far vedere una cosa Prego 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 Molto importante Sì sì Ieri ho scoperto Una curiosità musicale Conoscere tutti la canzone Di Avril Lavigne Girlfriend Come no Hey hey You wanna be your Na 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 A quanto fare Sarebbe stata Un plagio No È stata copiata Da I wanna be your boyfriend Dei De Rubinos Cioè voglio essere il tuo ragazzo Cioè Ma devi fare Che coincidenza è Voglio essere il tuo ragazzo I De Rubinos Ma il tuo ragazzo I De Rubinos Quale è il tuo ragazzo C'è una curiosità di per sé Quindi sono tutti Rubino Eh sono tutti Rubino Io Ve la faccio sentire Vai 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 Sta parte è proprio copiata E niente Quindi secondo me Dovrebbe coverizzarli Rubino Sì Hai capito I Rubinos Sono di quanti è nati Tipo Hey voglio essere il tuo ragazzo Toccherebbe Toccherebbe Che la canta Rubino Col testo Capito Cambiato Testo modificato Sì 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 Allora No Kalel Allora che cosa è successo Kalel Che ha fatto Poi torniamo Sempre sul fronte commenti Perché Sotto la nostra live Ricaricata su YouTube Eh Ci sono dei commenti Della ragazza L'artista di strada Che ha accusato Patrizio Official Di molesti ed aggressioni È una cosa gravissima È una cosa gravissima Io vorrei leggerli Perché secondo me Questi messaggi Sono altrettanto Gravini Grave Comunque Prima Kalel Quando dico Che ormai Certi individui Portano all'estremo Le discussioni Inerenti al fandom Soprattutto Quando si tratta Di inclusività Spesso la gente Dice che esagero E che gli altri Stanno solo esprimendo La loro opinione Ah parliamo di Harry Potter Capirai Non uso Twitter Perché è un covo di odio Di Bila Sputata da tutti A piano spiano Ma molti di voi Hanno mandato screen Di questi commenti In ultime 48 ore Vediamo un po' Allora Ah quel ricchi Cito Cito Quel ricchione di Kalel Come avrei voluto Averlo in classe Sarebbe stato come avere Paciocchi In una classe piena Di serpe verde La uscite da casa Ma rendete conto Che è follia Cioè questi fanno Cyberbullismo Te rendi conto Cioè Porco due Che manco conoscono È bellissimo Bullo nerd Cioè questo Si immagina come Se fosse stato mago L'avrebbe bullizzato Esci da casa Esci da casa Quello starà là Sul trespo Lo capite Nel suo acquario che follia affasse le pippe su Yamada Kedavra esci da Hogwarts spegni Hogwarts Legacy in altre parole gli avrei fatto indossare le mutande come cappucce e l'avrei rinchiuso nel cesso ogni giorno vabbè questo caporello come sa che gli hanno fatto crucio questo l'odio con tutto me stesso sto un'azista addirittura vabbè Magalela è uno scemo patentato Harry sarà un new male gender fluid di un'etnia imprecisata ma non bianco che piange e si inghiozza in continuazione che crede di avere le mestruazioni dal retto e che è segretamente innamorato di Draco Malfoy versione tsundere questo è paresemente pagato dalla HBO la follia non vuole ammettere che sia bianco Harry per qualche strano motivo loro di questi che la pensano in questo modo non è bianco mi raccomando aspetta credo credo sia il commento opposto cioè credo questo questo commento sia una critica a Kalel che parla di inclusività chi ha detto che Harry Potter non è bianco Kalel no qua dice vedi etnia imprecisata ma sicuramente non bianco capito non è bianco Harry Potter si sa nel senso che questo dice ah vabbè un saluto discorso avete ormai reso tutto LGBT quindi non specificiamo che è bianco un'altra etnica ma sicuro non bianco questo è Harry Potter non è bianco non è bianco ma beh si ma è un cretino c'è un bianco nero blu black or white cioè un coglione Harry Potter è uno da black or white da bullizzare vabbè comunque leggiamo i commenti guarda l'ho scrinnati stanno sul desktop allora piccolo contesto artista di strada vicenda con Patrizio officia l'accusa Patrizio non c'entra niente con Kalel no 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 erano sezioni commenti particolari la pista di strada Kalel è finito qui era questo ma è finito ma non è finito vabbè questo apri di cielo valanghe di commenti ma perché è successo per quanto vale qualcuno hai condiviso spezzone nel mio video dove parlavo della serie di V di Harry Potter e facevo un discorso sul fatto che a me non sarebbe dispiaciuto un silente interpretato da un attore nero ah mica lo sapevo io questo giusto per vedere qualcosa di diverso rispetto che non fosse la stessa minestra riscaldata per quello l'hanno blastato capito dicendo tu sei classico pagato dalle lobby case queste cose qui ma più che altro è un'argomentazione stupida quella di Kalel mi dispiace è bevichissimo silente nero cioè una volta che c'è silente nero e quindi in che modo hai riscaldato cioè in che modo hai dato qualcosa di nuovo solo perché è nero quello di stereotipizzare in modo razzista pure tutto rap ma sì sarebbe bello ma tanto se c'è una sceneggiatura di merda ma sì cioè che vuol dire no ma infatti poi vabbè può essere pure il nero più silente del mondo è un stereotipo del nero quindi è silente però che gli piace il rap che entra con ster praticamente sarà Snoop Dogg è capito il chiovo con l'erba Morgan Freeman se parliamo di Morgan Freeman vabbè può fare tutto Morgan Freeman io ci metto la firma regà Morgan Freeman può fare tutto regà non è quello il punto è una divinità no ma sicuramente sarà stato un discorso anche del cazzo non lo so però in generale fa ridere faceva ridere il parallelismo con il cyberbullismo di Harry Potter no ovviamente no certo è assurda anche la reazione da bulli tutti questi capito nonostante sì ti fa capire no che indipendentemente dalle idee che possono essere cazzate come le proposte di Kalel come nostre come di chiunque altro c'è proprio questa necessità impellente capito di distruggere qualsiasi cosa riguardi quella sfera lì che diventa poi non lo so una ferocia interna strana ma non si rendiamo conto assoluta è preoccupante da tutti e due i lati la ferocia sia nel voler cancellare lei ma pure c'è stanno un botto che ho letto un sacco di fondamentali ah sì certo hai fatto bene religiosi non so se evangelici non so bene in America che hanno comprato tutti i libri cioè che l'hanno preso i ritirati l'hanno tutti bruciati sì sì ne avevamo parlato ne avete parlato sì sì quella è l'altra faccia della medaglia quello è perché la religione parla del diavolo c'è sta l'esoterismo la magia no l'altra faccia quindi bruciamo tutto non compriamo un cazzo io vorrei un Harry Potter bangladino anzi tutti i bangladini Harry Potter un rifacimento Harry Potter tutti i pachi no no ma pachi stanno a Bangladesh di quell'area lì perché nessuno si ricorda dei pachi perché oggettivamente non sono mai quasi mai dei fregni sono sempre magari un po' piccoletti un po' dimessi un po' che ne frega un cazzo no perché non facciamo un film tutti bangla sì perché comunque no migliorerebbe esiste un film chiamato bangla ma sicuramente a Bollywood l'hanno già fatto Harry Potter loro secondo me perché loro si fanno le cose loro capito giustamente sono miliardi quindi che cazzo ne frega comunque dicevamo allora artista di strada si è tagliata la barba chi? artista di strada ah no ma quella è poeta di strada quella è un'altra cosa quella è quella che sodava in agorubbino no questa è la ragazza della live vrl di patrizio no che ce l'ha stata no ma ha molestato avata kebab il video su tiktok dove appunto diceva no ma io sono stata molestata da questo essere qui poi insomma è spuntata fuori la versione anche il contesto Patrizio si è scusato noi l'abbiamo commentata è entrato anche d'uncol però la ragazza ha commentato sotto il nostro video quindi leggiamo ed eccoci anche su youtube ciao ragazzi sono la cantante che rosica come dite voi vi prego ascoltate bene cosa dico all'inizio tu sei venuto prima mi hai parlato sopra e non sono riuscito neanche a sentirti fa capire che lui era venuto prima di questo video sono giorni che mi scrivono persone e quello l'avevamo capito che c'era con un po' di difficoltà ma siamo riusciti a capirlo insultandomi e dandomi della bugiarda continuo a dirvi che se ascoltate bene come dice un ragazzo in questo video c'è una parte prima che purtroppo non si vede se riferisce a te ora io mi sono solo difeso e ho spiegato cos'è realmente successo prima di questo video prima di questo video dovrò dirlo certe volte per favore non ne posso più di questa storia io voglio solo fare la mia vita come stavo facendo prima di scoprire che qualcuno mi avesse messo sui social facendomi sembrare una pazza che insulta la gente a caso beh a caso non è stato quindi vi prego fate sparire sto video e dimenticatevi di me ho scritto a patrizio che dice che non è patrizio io penso si riferisca al tiktok quindi avrà scritto alla pagina che ha ricaricato qualcosa quello gli avrà detto ma non so patrizio insomma chiunque sia abbiamo deciso che lui cancellava i video che ha messo io cancellavo quello con cui ho risposto facciamo attenzione alle cose che vediamo in giro ragazzi prima di decidere chi ha ragione o torto ascoltate bene o meglio ancora non parlate se non siete stati presenti poi qui spiega la dinamica che è la cosa particolare intanto l'unica cosa sola se tu fai il processo pubblico e divulghi questa storia alla pubblica piazza è ovvio che poi la gente ne parli se no che ne hai parlato affatti perché l'hai reso pubblica sta cosa sembra che tu voglia fare un enorme dietro front e cancellare tutto quello che è successo ma non funziona così aggiungendo tra l'altro due definizioni molto pesanti molestia e aggressione perché se girano le parti della live perché non sono state fatte gira quelle ok la ragazza magari non c'è esperienza del mezzo l'ha detto però comunque la parte più fondamentale manca cioè almeno noi sia personalmente che all'interno di quella live non l'abbiamo vista percepito un po' come un'aggressione l'essere messo online secondo me abbiamo pure detto che io posso capire l'artista di strada che si vede invasa la sua zona cioè il sentimento lo capisco lì per lì tutto quello che è successo dopo no esatto sul momento è stata giustificata ampiamente però adesso io dico secondo me come diceva anche Gianluca non ha una grande magari conoscenza del web quindi se vede sto video fributato dove passa appena pazza c'è sta che te prenda male però nel video di spiegazione ripeto hai lanciato delle accuse pesanti cioè se mi avessero detto a me oh ma hai molestata ed aggredita cioè qualora non fosse vero mi sarei incazzato e non poco quindi adesso non puoi pretendere un dietro front totale dopo che tu stessa hai fatto quel tipo di annuncio pubblico comunque qua specifica però so come un peccato perché sarebbe stato curioso vedere l'approccio perché lei ha parlato di telefono in faccia quindi sicuramente sarà stata una distanza almeno meno di un metro però toccherà vedere pure perché l'approccio di lui comunque è sempre abbastanza simpatico tranquillo non è uno che te arriva con aria particolare ha chiesto scusa se n'è andato mezzo cacuta tra le gambe ma non abbiamo visto negli occhi nostri cioè non è che uno la vede in mala fede però conoscendo il tizio parlare di molestia eccetera ci è apparso un po' esagerato molestia è altamente esagerato però non abbiamo visto ancora questo momento del telefono in faccia perché è stato cancellato tutto abbiamo visto solo una parte in realtà forse c'è il voto ma non l'ho trovato io che so 700 ed anche anche tutto il pubblico che conosce sta storia conosce solo una versione parziale della realtà beh in realtà no perché si parla comunque di una roba andata in live sì ma poi è scoppiata su twitter e su tiktok e su tiktok non c'era la live c'era solo lo spezzo no quello sì però dico nel senso tipo d'uncole quando è entrato lui era in quella live anche d'uncole ha detto c'è un pezzo prima sì sì però nulla a che vedere con molestia aggressione no no lei ha riportato un pezzetto poi non ha neanche ben spiegato ha detto sì c'era caos quindi non riuscito a capire io non credo che in quel pezzo che non abbiamo visto non è che vedremo vedremmo un patrizio molestatore diverso da come è di solito però non lo sapremo mai se non esce fuori ma chi ha visto la live lo sa cioè sicuramente non l'ha molestato cioè questo qua lo dico così per probabilità non è canzone ah vedi se vi serve c'è un video di Tancor dove si vede prima se puoi lo mando sì grazie sì se puoi mandalo sul gruppo facebook se riesci caricalo grazie Giorgia molto volentieri allora post scriptum noi artisti di strada ci innervosisco vabbè ci innervosiamo se entrate nel nostro spazio io avevo delle luci messe a cerchio che mi hanno anche rotto ma chi però delle luci ma non Patrizio gli hanno rotto le luci Tancor che mi hanno rotto in generale Patrizio all'inizio prima di questo video entra nel cerchio e mi mette il cellulare in faccia e parla con qualcuno penso in diretta a questo punto mi sono solo spaventato di avere una persona così vicino e col cellulare attaccato alla faccia ogni giorno mi fanno video mentre canto ma a distanza poi l'aggressione non l'ho menzionata l'ha menzionata che ha caricato il primo video io nel mio video risposta dico che sono stata molestata cioè sono stata privata del mio spazio infastidita per l'occupazione del suono nel video lo dico solo perché qualcuno ha detto che noi artisti di strada dobbiamo trovarci un lavoro invece di rompere le scatone in strada ok vabbè ma questo infatti non l'avamo contestato io ho detto che abbiamo dei permessi che è vero comunque io sono qui per chiarimenti ma se dovete dirite il mio altro mi dispiace ma in questi giorni ho avuto un assaggio di cosa provano le persone bullizzate sul web e non ne voglio sapere più ma non so a chi si riferisce forse a dei commenti che le hanno scritto sicuramente su tiktok gli sarà arrivato qualche rottura di cazzo noi siamo stati molto tranquilli eppure strapieno di bambini ah vedi c'è Marco apri un attimo Patrizio effettivamente va dalla ragazza riprende però forse questo è l'altro ah no precedente vediamo con i nostri occhi vediamo e non con gli occhi del sentito dire prego prego figurati se non hanno insultato no ma quello sicuramente per l'amor di dio se c'è una persona poi che non conosce magari il web capirai una shitstorm che capisco possa essere devastante secondo me ha percepito pure quello come una molestia cioè il fatto che debotto si è trovata su tiktok si trovi spiattellata decontestualizzata non ha capito com'è sto mondo un po' e ha pensato più ne parli più rispondi più fai video e più la ingrandisci la cosa lei non conoscendo il mondo ha pensato magari riesco a risolvere ha fatto più danni che altro perché ha parlato dei molesti è un po' esagerato c'è stanno delle pubblicità lì è un greco sto a prendere tempo è il figlio di Ivan eh sì che c'è griego grazie ciao nipotino oddio andiamo in qua è molto brava questa cantante molto brava sta oltre l'asta si no brava brava ciao ciao questa è una molesta mamma mia mamma mia cioè fa un attimo pausa le ha fatto un'inquadratura carina è rosicato perché gli ha dato una lira cioè mamma mia hai fatto il video del minuto e mezzo dammene poi l'ha detto pure lei cioè gli artisti di strada spessissimo vengono ripresi e c'è una convinzione magari anche errata è solo se nella tua testa quella cosa diventa un sopruso che poi lo diventa c'è un taglio c'è un taglio ma porca di quella c'è un taglio però si stava si stava allontanando sì c'è un taglio effettivamente se questo è il telefono in faccia se questo è il telefono in faccia che ti molesta e ti infastidisce e ti rovina l'esibizione ma non me pare proprio poi sarò pazzo io ragazzi in una situazione del genere uno continua a suonare magari fa pure un po' di eye contact con la live poi è tornato è arrivato il ride ha detto mi spieghi perché che volevi sì però scusate un attimo e poi magari sarà sbagliato ma anche voi pensate che magari riprendere degli artisti di strada possa anche fare del bene al tipo di lavoro può solo io vedo spessissimo tanti video che ne so ma anche pianisti nelle stazioni che stanno lì gente che sta in piazza del popolo che fanno esibizioni che fanno dipinti a meno che non lo pì per culo ovviamente no 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 vabbè dico video classici tranquilli a volte taggano pure l'instagram qualcuno lascia pure l'instagram che ne so nelle simile locandine che si mette davanti quindi hai detto bene in quadratura pure caruccia di lei sorridente che canta che brava solo brava brava ha detto da quello che si è visto e poi c'è una schifin chat c'è un taglio ragazzi è un taglio quello che abbiamo visto sta zitto gli fa brava brava sta oltre l'asta e non è sembrato neanche questa clip e non c'è non c'è sembrato cioè poi è uno che cazzo tocca a dire ragionare anche oddio bello qua diceva che gli aveva rotto qualcosa questo è proprio ragionare proprio contro il proprio successo aspetta qua vedi vai 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 ha rotto qualcosa citofono grazie grazie gentilissima non mi pestare guarda guarda quanto siete stronzi guarda oh ma che gli pesti soldi ah i soldi perché era il cappello suo mi hanno pestato le luci che aveva detto va a me sentire un attimo scusaci scusaci questa cosa a me non me lo paga nessuno questo l'avevamo visto questo l'avevamo visto lei aveva parlato di qualcosa di rotto delle luci magari è quello però no ma non pesta il cappello non me pestare vabbè ma è ha rosicato perché hanno fatto il video non gli hanno dato niente poi dopo ha provato a parlare c'è che era modo vedi datemi due sordi è arrivato il ride e lì ha rosicato ancora di più perché in capia che stava succedendo tutti urlavano è arrivato anche il rider comunque nel frattempo però molestia insomma no vabbè ragazzi cioè mo veramente mi sembra esagerato che ne so che è? c'era fuori il rider mi ha fatto vedere il telefono sopra il telefono c'era scritto Lorenzo Tafuro vabbè ma qua siamo alla follia no vaffanculo io sono andato a Momo lo magno io allora vediamo un po' che c'è qui se proprio voglio essere sincero io ho paura ho paura che fai vedere i dati sensibili subito Raffa subito Simone non hai capito io ho paura che tu faccia vedere dei dati sensibili per me tu può infilare un culo non voglio che fai vedere dei dati sensibili ok grazie Lorenzo grazie mille grazie Lorenzo grazie mille tre monster grazie ma possiamo? oppure dentro c'è qualcosa grazie Lorenzino ma come mai questo come mai questo oggi ci vuole una monster questo petticato comunque vabbè ragazzi ripeto sì c'è un taglietto però in generale mi sembra veramente assurdo definire questa molestia DJ Lupe ha scritto lecca culo no ma sti dissing no DJ Lupe ho sette magliette tua ma chi è lecca culo dai non per cazzo dai uso come pigiama bellissime sono comodissime sono comodissime dai ma sono belle lasciate sta DJ Lupe su ma sono tutti amici ragazzi su per l'amor di Dio c'hanno tipo una faida c'hanno una faida aspetta questo è interessante DJ Lupe che è successo tra te Lorenzo D'Apuro entra un attimo su Discord un minuto posso sentire che è successo un minuto proprio ragazzi vi chiedo va bene se puoi ovviamente a me entra il lupo confronto in diretta può entrare il lupo eh sì magari dai tu la vuoi Marco? no un bicchiere un bicchiere addirittura solo che io non la apro no regà lasciamo stare piccolo bicchiere vabbè dai non fa niente la apro la apro ma ce l'ho ce l'ho è un bicchiere certo allora fa shopping online come Tafuro vedi ma si fa prendere la mano ho speso 70.000 euro adesso dovrò a trovarmi un secondo lavoro ma scusate io ho letto sì c'ha sto colore Marco ha chiesto ma c'ha sto colore ho letto sto titolo no mi sono detto ma che vuol dire 70.000 euro come ho fatto a non rendermene conto poi ho ripensato magari agli ordini su Globo del Sio secondo me mensilmente ci arriva attenzione qui annunci personalizzati tra l'altro il cesso vedi lo vedi perché prima abbiamo detto cesso il vaso la ragazza la ragazza ha raccontato bravo allora è baffanculo come no la ragazza ha raccontato su TikTok di aver partecipato a un'asta online per una casa ma che è oddio mio spendendo vabbè lo shopping online c'è frega un cazzo la ragazza ha raccontato di aver visto l'asta online per una casa che si trova sulla stessa via di quella dei genitori e di aver fatto un'offerta di 25.000 dollari per noia oggi mi annoiavo manco vedi magari se esiste la casa vai a vedere un po' com'è esatto quando qualcuno ha alzato si è fatta prendere la mano ed ha continuato a offrire fino ad arrivare all'offerta finale di 82.000 dollari e la domanda successiva sarebbe quindi che cazzo vuoi? eh l'ho fatto sapendo benissimo di non avere i conquilini per dividere il costo soldi da parte ma un genio ha spiegato a quel punto quando si è resa conto di aver fatto un errore terribile ha sperato che arrivasse un'altra offerta ma la controparte si è ritirata questo è un classico dei film che proprio all'ultimo ti scammano quello che non vuole fa se scammano gliela fa ma pensa che stronza se te devi comprare a casa c'è questa che te la alza te rendi conto ma infatti gli sta bene a questi che alzano le aste gli sta bene per noia ma vaffanculo va sì sì vedi qualche giorno dopo è tornata sui social per aggiornare i follower dopo aver metabolizzato il suo umore era decisamente cambiato ho fatto un affare la banca ha approvato il prestito per pagarlo mi servirà un secondo lavoro ma è stato l'acquisto della vita vedi alla fine è fiera vabbè se la son chiappettata ma poi se sa com'è casa carina dovrai solo fare due lavori full time ma sì ah questo è molto divertente allora negli scorsi giorni era uscita la notizia se non sbaglio anche su Dago Spia Michael Douglas Michael Douglas esatto della separazione tra Bonolis e la moglie e loro hanno deciso di rispondere così secondo me è molto divertente che volevi dire che siamo in difficoltà perché mi ha fatto vedere che è uscita sta cosa su bici eh su bici.it su Dago Spia è uscito che ci vogliamo separare ci stiamo separando o ci siamo separati non lo so vabbè non si sa comunque sì adesso siamo molto in difficoltà perché che facciamo esatto che facciamo ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie che sono proprio fondamentali per il nostro quotidiano oppure non ci separiamo e mandiamo a quel punto sull'astrico il sito perché è un sito dei fregnacce e qui è un problema non è un sito dei fregnacce ogni tanto no se non lo facciamo è un sito dei fregnacce ah certo è sto fregnacce allora a questo punto che facciamo ma che facciamo c'è un dilemma morale un dilemma morale per il giornalismo vabbè pensiamoci anche perché ci hanno detto adesso così su due piedi faccia via un attimo così dovremmo parlarne con i figli con la famiglia sì dobbiamo parlarne casomai con i figli nel caso fosse magari prima capito magari prima che dicessero le fregnacce le importantissime le informazioni importantissime informazioni che ci regalano questi siti non perdete mai le informazioni di questi siti non sappiamo fatevi sempre la vita degli altri bravi comunque lo amo io lo amo è stato un problema e adesso che facciamo è stupendo è stupendo anche questo è stupendo allora io sento tanti ragazzi non si arrende mai grande ragazzi ma allora entro di francesco è la dimostrazione che nella vita non bisogna mai arrendere mai morti ragazzi che è successo ragazzi che c'è che succede che succede l'accendino l'accendino è l'accendino è l'avrà regata di settanta di accendini si ruba tutti Marco ce l'hai ma compresi i cerini quando mi chiedete un accendino io ve lo do secondo me la verità è questa come Galactus è un divoratore di pianeti Marco si ciba di accendini per forza non c'è altro oppure li rivende che ne so guarda prendi nella mia sacca c'è un accendino vediamo che sta a fare io sento tanti ragazzi che hanno la paura di provarci con un'eventuale ragazza ma se voi non ci provate non avrete mai l'occasione mentre se ci provate e va male sti cazzi perché tanto quella ragazza non la vedrete mai più o comunque se sta nella vostra stessa zona pazienza non è che si può piacere a tutte seconda cosa se va bene ci avete provato avete vinto quindi top grazie Anthony non l'avevo mai capito dei ragionamenti avanguardistici assolutamente si a proposito di donne sai quanti ne faranno tesoro di queste parole e andranno a importunare anche magari erroneamente però almeno in un video non mi ha detto cazzate tutto vero l'acqua è trasparente io ho la fila di quelli che mi vogliono sposare punto primo sono simpatico punto secondo un po' di grano ci sa punto terzo la leggenda dice che si so fare ma io mi ricordavo che fila è in modo diverso non era punto quarto però che grande che grande allora devo raccontare una cosa anzi dobbiamo raccontare una cosa avevo linkato qualche giorno fa un video blur fa il test delle 16 personalità ho detto meraviglia questo è per simone un link bellissimo abbiamo fatto altro nel corso dei giorni non l'abbiamo aperto vado per aprire clicco sul link video eliminato ed è partito in coro tutti e quattro nooo non sapremo che personalità ha blur se qualcuno l'ha visto intanto la scriva perché siamo curiosissimi ma l'ha fatto in live il test si si l'ha fatto in live il test io ho sentito tutti che dicevano no e mi sono sentito di accodamme poi ho capito e comunque lo pensavo però ho detto nooo ho detto fammi cercare magari c'è un altro freebooting e ho trovato zano npc ed g ed g ed g npc ho detto fammi cercare blur 16 personalità non l'ha trovato ha trovato zano però di un anno fa nooo per curiosità vediamo guardiamo solo che personalità viene fuori ma qua e qua alla fine ho ancora staviso per me gialli eh secondo te mediatore secondo me eh poi io non lo conosco minimamente mediatore è una persona che non ho mai approfondito ecologista secondo me forse sì perché è verde mediatore è mediatore mazza mi giuro che non avevo visto ci hai preso come omiadol e come qui presente gialluca come dread come dread comprendente solo il 4% della popolazione è purtroppo elevato in rischio e il tipo di personalità lo sappiamo un coca è mediatore una cosa di streamer c'è un po' il sospetto c'è un po' il sospetto se solo il 4% della popolazione è assurdo ci sono così tanti streamer che hanno questa personalità sì solo il 4% no ma il 4% si suona c'è un mondo quello è scritto sono cose vecchie scritte per far sentire importanti le persone ah e sto test poi più gente lo farà più si sbomballeranno beh certo i dati magari sono fermi a qualche anno fa una percentuale più bassa sta avendo un boom quindi oppure molti mediatori scelgono il lavoro di streamer eh sì quello sa chi lo sa le norme erano scrittori diceva scrittori poeti anime gentili introversi sì sì molto introversi potrebbe sta magari io abbastanza ecco la frase di Gianluca che più si avvicina un po' all'ospito del mediatore è sono obbligato a fare quello che mi va allora non aprirò mai più per il mediatore è l'avventuriero lo dico chiamare nome un città in Africa ah sì città in Africa Wakanda nome un città in Africa Nigeria nome un città in Africa Senegal correct nome un città Mozambique nome un città in Africa in Africa sì Tensi posso nominare un città in Africa Nigeria nome un città in Africa nome un città in Africa oh um wait ho questo in Africa non c'è un città Cape Town è un città è un città è un città nome un città in Africa questo è un città in Africa Marco sì è un città in Africa ma sempre suo sì sì che sei collega no l'ho mandato poi lì Guaganda aspetta vediamo can you name a città in Africa no non era questo Cape Town Cape Town sì come c'è questo perché non siamo americani l'avevo scritto prima uno poi questo subito dopo lui le ha chiesto perché lo sai e lei ha risposto perché non siamo americani è per quello un altro video uguale a questo e faceva rite lo chiedeva a 20% e poi uno rispondevano tutti e tre voi siete molto smart e lui fa siamo tutti e tre non siamo americani ma pure questa è linkato Marco no questo no secondo me l'ha linkato d'iniziativa secondo me l'ha linkato Marco ah ha linkato Marco ma veramente l'avevo linkato un altro e non è da aperto scusami quanto tempo hai in tua account 1.2 1.2 milioni? sì cosa fai per un vivere? ho lavato le luci oh damn devi stare a lavare le luci vabbè sui video che fa pure in copia scialba eddie biffo sì però fammi vedere perché ha detto che ha detto che ha un milione due perché lava i vetri e ora sta spiegando la tecnica con cui lava i vetri è già iniziato una mozione insomma facci un attimo io scusami ah e finisce così 1.2 dice perché? 1.2 milioni? Davide Petri cosa fai per un vivere? ho lavato le luci oh damn è assurdo non è finestre eh sì le finestre l'ho ripingato se è andato successo i ling e poi finisce così i ling i lingus ma poi c'ha zero commenti c'ha 59 visualizzazioni questo è un fallito questo youtube ma chi cazzo è? ha 3000 iscritti ma come cazzo l'hai trovato? ma giusto il chitano è un fallito ma forse questo ma questo è un fallito ma forse è virale forse quel video è andato virale penso che l'algoritmo ha percepito il mio odio verso gli Stati Uniti no secondo me sono ricaricamenti mi sa che si e soffri booting mi sa che soffri booting non lo so sembra strano era veramente sembra strano uno che va in giro grazie quick grazie eccolo eccolo ah perfetto name a city in africa yeah name a city in africa sa su sadurno i americani in sun non cazzo è assurdo però in effetti in effetti la più facile è il Cairo Egitto se ci pensi è la più facile non sei impazzissimo questo eeeh perchè l'ha aperto quattro volte sto video di merda allora Perugia 28 persone comprano la stessa console ma nessuno la riceve interessante comunque 21 persone truffate convinte di comprare tablet e cellulari di ultima generazione oppure una console con videogiochi e joystick con offerte incredibili in rete un attimo un uomo di 35 anni un campano difeso dall'avvocato Giovanna Mirella Anania deve rispondere dall'accusa di truffa ma perchè campano perchè devono diffamare queste persone ma non è campano non è campano è una cazzata è lombardo non è campano è una bufala di 28 persone per aver posto l'annuncio di vendita di prodotti di elettronica fornendo recapiti tramite mail le utenze effettivamente in suo uso dichiarando false generalità per concludere le trattative e concordare le modalità di pagamento e consegne della merce vedi le false generalità ok compresa la regione si è finto campano capito vuole costruire la narrativa si però magari non mi fingerei campano per fare una truffa insomma beh dipende però non lo so non lo so quando fai un acquisto dici vabbè compro sta playstation ammazza l'imputato è già stato arrestato si ah vedi che rapidità è già detenuto presso il carcere di poggio reale per tante condanne definite per lo stesso reato e altrettanti i procedimenti sono pendenti davanti a numerosi tribunali d'italia se lo so bevuto cioè ma le truffe le ha fatte da dentro il carcere questo no no si sono accumulate evidentemente e ora hanno gioccato tutto materiale che non è mai testito secondo l'accusa avrebbe intascato 260 euro per un ipad 4 350 euro per un iphone 5 300 per una playstation 4 con due joypad 165 euro per un'altra inesistente console rivenduta un'altra volta a 180 euro e poi ancora a 150 e per altre 18 volte cambiando il prezzo in base al gioco abbinato vabbè è un genio questo tutto materiale che non è mai esistito e che gli acquirenti dopo aver pagato con bonifico bancario non hanno mai ricevuto appoggio reale tocca a statenti tocca a statenti ma pure è mezzo rubatore dei galline guarda che illegale non lo sapeva allora questa è in realtà una cosa che stavo organizzando con Veronica ma dai pagata per testare la fedeltà dei mariti sei l'unico sposato mi dispiace Marco vabbè te dirò vediamo allora la maggior parte sono infedeli mi arrivano in difficoltà sei pietrificato ma perché sei l'unico sposato sei pietrificato ma ormai te l'ho detto quindi ormai ho hai fallito mi hai dato una grande mano tanto Veronica non sta a vedare ha vinta la sicurezza quindi mo facciamo vinta capito tu sei all'oscuro ti arriva questo ma io non potrei mai io amo mia moglie bravo proprio così ti va la desigara la desigara era pagato trombasse il partner e poi fatte beccando esatto tipo che i mariti lo pagavano lui andava che se scopava la moglie si dava appuntamento col marito che doveva entrare per cogliere l'infragrante e poi gli dava i sordi bellissimo faceva troppo ridere che era una cosa io amo mia moglie non lo farei mai non lo farei mai se ne vada meretrice ricevo molti messaggi da donne che dicono di essere confuse sulla loro relazione svela l'influencer ma va ma va affanculo messaggero di merda ogni volta così la privatizzazione di mezzi chi è questo Marco? avevo flashato l'umdino grazie chi è questo Marco? Iron Man questa è Zodiac mi ha fatto paurissimo a questo investimento così ragazzi allora noi ci vediamo alle ore 21 no non è Feltri no è Feltri davvero no credo Feltri è giovane no ma non so mi sembrava un identikit a caso grazie crociato mi sembrava tipo alla Zodiac capito a cosa giocate? è vero stasera c'è il play chat stasera è una cosa abbastanza curiosa soprattutto futuristica che paura no devo fare quella cosa là? mi sa de si ti tocca stasera Marco mi sa de si mi sa de si aumentata l'assicurazione però abbastanza per essere pericoloso io ho mandato una cosa quale? una cazzadina eccola ok hai presente che no 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 hai presente che prima hai detto che le uniche cose certe sono la morte e le tasse in questo screen ci sono entrambe le cose occhio che c'è whatsapp ora non più puoi mettere schermo intero questo è una diciamo una sezione del regolamento interno degli impiegati che lavorano alla IRS IRS che è l'agenzia delle entrate americana cosa fare quando il taxpayer minaccia il suicidio no bellissimo arriva al telefono è stupendo che non vuole pagare le tasse e quindi minaccia il suicidio stupendo e ci sono tutte una serie di istruzioni perché evidentemente gli capita più di quanto noi pensiamo e c'è tutto qua ho fatto solo uno screen iniziale ma c'è tutto un paragrafo che spiega come comportarsi nei vari casi di suicidio tipo sta tentando di suicidarsi oppure sta dicendo che commetterà qualcosa cioè tutti i vari casi ma tutto questo non per aiutare la persona no per farlo pagare per assicurarsi proprio che quel bonifico arrivi sì certo perché sembra quello che descrive pure da quello che leggo parla fai domande tienilo tempo sembra tipo quelli che devono contrattare con l'uomo che sta tenendo una vittima no non uccido stai calmo come si chiamano i cazzo c'è un termine americano negoziatori negoziatori in italiano però in inglese come si chiamano cazzo i negoziatori e sì italiano mediatore abbiamo detto pure prima i cazzi si chiamano contractor c'è pure scritto fare domande preoccupate capito no ma dimmi come ti senti dimmi di più della tua vita nel frattempo gli imbocchiano in casa capito dacci i tuoi soldi coglione poi danno i soldi vai poi buttava un po' come cazzo te pare ok terrificante bellissimo l'altro giorno mi sono rivisto ventesima volta Capitalismo Love Story non so se te veditelo perché è figo non è Michael Moore c'erano mille cose simili aziende giganti che facevano assicurazioni sui dipendenti senza dirglielo e poi quando morivano per sbaglio è capitato che sono arrivate delle lettere ai familiari con scritto che il proprietario cioè l'azienda ha percepito un milione di euro per la morte del marito dei tumori accidentale sicuramente immagina che avevano fatto un milione 15 mila dipendenti a una gli è arrivata dalla si è fatta un'inchiesta si è scoperto un sacco di aziende facendo questa cosa cioè ti facevano un'assicurazione sulla vita poi speravano che morivi c'erano pure i valori che calcolavano e ancora ne sono morti pochi quest'anno l'investimento non è stato buono è stata tutta un'indagine assurda è una marea di aziende ma chi è che spera la morte dei dipendenti in che situazione solo in guerra può succedere proprio ieri ho visto un caso di un uomo che ha ucciso l'ex moglie perché sapeva che c'era l'assicurazione sulla vita avrebbe preso un milione quindi per un milione una persona uccide porca droga quindi con tutti questi magheggi cose c'è star dipendente che sta un po' lì a fumare sul ciglio del macchinario che non gli ha dai una spallata e lo fai cadere nel tritacarne è successo stava tipo la stava la killer sto esagerando come si chiamava la killer dei mariti la vedova nera quella che praticamente sposava uomini li uccideva con l'arsenico la voglia piano piano con l'arsenico e praticamente la sgamarono perché trovarono il libro di ricette di un non so se una bevanda un cibo all'arsenico Alex Mucci l'ha fatta Frank non me lo ricordo la window maker 90% sono stronzi vecchiacci la vedavo nera hai detto bene sì ma la ricetta di che cos'era si era una storia di un botto di anni fa si un po' di tempo fa cosa che l'ho sentito ma era tipo di tanti anni fa può essere sì sì di anni fa però mi ricordavo sta ricetta di tipo il tiramisù dico una cazzata all'arsenico l'aveva proprio scritto cioè gocce di arsenico se poi è troppo forte aggiungete il dolcificante no sambucone no dai cazzo ma non sapete niente una cosa che vi ho chiesto su siete 3.000 persone la cicuta tiramisù non era tiramisù biscotti no torta di mele no non era cianura era arsenico vabbè sapete in cazzo e allora sto tizio comunque stava grazie grazie KQ lasagna stava là all'interrogatorio della polizia no tipo il giorno dopo aver ucciso sua moglie ovviamente a Falognorri tipo sono molto preoccupato per mia moglie stava là tutto così all'interrogatorio con il poliziatto gli faceva le domande americano questo sì tipo ma lei ha un'assicurazione sulla vita sua moglie eh beh sì effettivamente sì ma a chi darà tutti i suoi averi sua moglie beh effettivamente ha un testamento scritto a mano che dà tutto a me e lei in che situazione sta in questo momento con debiti da 200 mila dollari c'è tipo a sgamasse da solo senza dover dire l'ho uccisa io però ci sono arrivati dal suo comportamento dal fatto che stava palesemente mentendo la modalità l'hanno detta la modalità l'hanno detta come l'ha uccisa gli ha sparato mi pare ma manco te paga e cosa aveva detto lui scusa una rapina una questione in casa tanto dicono sempre che o è andata via sì è andata via che non l'ha tipo mia moglie è andata via e non l'ho più vista poi la ritrovano in un fiume spesso e volentieri è così un'altra aveva pure detto è andata via con uno sconosciuto è venuto a prenderla in macchina e sono andati via per l'orizzonte e non l'ho più vista però là non puoi provare la morte l'hanno provato poi con DNA tutte cose hanno ricostruito la scena del crimine la morale è che comunque te sgamano nel 99% dei casi ma sì perché è difficilissimo creare una situazione cioè devi commissionare l'omicidio a qualcun altro ah ecco abbiamo fatto così porca troia aveva fatto esattamente così aveva nella sua testa aveva ideato il delitto perfetto aveva assoldato un tizio con cui si steccava l'eredità Fargo e in quel momento durante l'uccisione della sua moglie lui lo sapeva lui era andato al centro commerciale ah per avere l'alibi ma come l'hanno sgamato perché questo è un idiota si sente intelligente ma era tipo un deficiente entra al centro commerciale senza fare un cazzo immagino si si un po' così ah dalle videocamere l'hanno beccata non compra niente guarda tre vetrine così e poi se ne va tipo un comportamento più anormale ma cazzo vai tipo a giocare a paddle capito per un'attività sportiva e quindi l'hanno sgamato perché è stupido che si credeva nel supermercato dove c'hai capito le telecamere di sicurezza vai che cazzo sei in palestra vai in palestra c'hai videocamere lì talleni stavo allenato cazzo ma infatti stava a dire sembrava la trama del film dei fratelli Goen che Fargo era tipo voglio prendere i soldi del padre della mia compagna quindi recluto due killer cacciatori di taglie che la devono rapire chiedo il riscatto al padre e soprattutto questi killer sono due coglioni quindi fanno un macello è bellissimo e spesso magari è d'accordo pure lei sì spesso sì in questo caso no in questo caso no però tipo il padre che era un pezzo di merda non ti do nulla bellissimo di true crime c'è sta la peggio roba su internet è fighissimo che poi ti sgamano lo stesso beh più che altro secondo me per arrivare a fare una cosa del genere devi essere un killer talmente freddo negli interrogatori ci stanno la caratteristica di alcuni serial killer che riescono a mantenere una freddezza anche davanti omicidi multipli però se sei così boh poi in realtà cioè noi sappiamo solo quelli che sono stati presi magari ci stanno persone che hanno ucciso ci stanno segui dispersi e non si sa bene ma sì guarda io i casi sono i risorti ci sono anche ad esempio video di casi congelati negli anni 80 ripresi adesso e sgamano magari ho visto un video che arrestano un 75enne che aveva ucciso sua moglie 40 anni fa pensate e l'hanno scoperto adesso meno male ma poi se a volte il caso succede qualsiasi cosa che ne so fai il diritto perfetto veramente poi scendi e ti vedi la vicina col cane che sta a portare cane di notte quindi le dinamiche sono tante c'è anche il caso di una poliziotta quindi una una collega in quel commissariato che gli stessi del commissariato scoprono che a 20 anni aveva ucciso uno e poi era diventata poliziotta si era fatta un'altra vita diceva l'ho fatta franca invece porca troia a voi a te beh beh ci vediamo alle 21 ciao ragazzi per quanto riguarda i biglietti di Boscar perché chiedevate abbiamo fatto la richiesta alla CIA e abbiamo fatta questa grande associazione che aiuta i diritti dei lavoratori dello spettacolo e adesso tempi tecnici della CIA e penso qualche giorno non lo so abbiamo mandato una persona fisicamente lì per minacciarli quindi se devi svegliare Gino Paoli devi fare fammi approvare questo evento dai Gino Paolo vai si popo quindi per giugno sì vabbè così veramente mi faccio rimborsa tutto dai ragazzi ciao 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 che squali sta deriva è l'ho crocian che sembra assurdo